Ma è scusa, ma è scusa, ma è scusa, ma è scusa, ma è buon padre l'osuforia. Lughe, Lughe, Lughe. C'è un vescollo a notte, la porta miga, nel pangaljù, che sono così, sono fuori e ciò non viene da tijù. Lughe, 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 Lughe. Il mio figlio è splendido anche perché sanno esattamente quello che fanno e sono capace di fare il mercato che stanno facendo insieme a noi. E poi c'è la maggior occasione facendo il mercato che stanno facendo un mercato, poi c'è un concerto dopo, dove si chiacca e non si parla e finalmente si affronta un problema che magari invece ad ora non si riescono ad affrontare. Già anche sei? Io sei! Carlo! Sei il termologista? No, in famiglia! Lo di Crismi è il termologista perché esce da Taganini di Tempo. Siamo fatto un po' di avventure, per quanto riguarda questo concerto. Mi ricordo che tra cinque anni gli mettevamo in mano due noci e poi le faceva diventare degli delle strade percussioni su americane. La resa pubblica. Io le noci non le ho mai suonette. No, 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 no. Non pure il lavoro per una scatola mia madre mentre mangiavamo. Direi che ha il senso della musica per P&A. Ecco il primo iniziato. E non risolta. rimanere quello che ha il Consiglio, per un risultato intenzione. Allora, niente, io ho chiesto di vincere per me. He è iniziato un po' di più. Bicchia, allora! Le biliechi iniziato per tutti? Le biliechi? Cominciate? Vediamo come fai a riprendermi così come faceva il viaggio sull'ascensore con i Che c'è? Si pensa di rasserenarsi e poi tutti i liquidi superflui o maligni che hai in gola tirano se stai in questa posizione scende quindi a sgombrarti con l'organo che ti è utile per cantare non ti ha visto, non ti ha mai visto non ti ha mai visto i giorni anche i giorni così ombre del mondo Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti